Questa sera è un'opportunità che secondo me è interessante, ho volto tanto parlare di temi concreti e spero che a quello ci sia accaduto. Quale è la priorità per domani? La priorità per Roma è sicuramente quella di Curla. Roma è una città sporca, degradata, una città nella quale la condizione del manto stradale è tragica. Questa mattina è una interessante iniziativa di un artista, Alexander, che copre le buche con pezzi di cartone dipinti. Un po' come dire quando il degrado diventa invece creatività, però è anche un monito su una città il cui manto stradale sembra stato bombardato da una pioggia di meteoriti. Si può fare, si può risollevare, si può sistemare in cinque anni. Noi abbiamo un progetto per individuare 500 milioni di euro in cinque anni per affrontare la manutenzione del manto stradale almeno dei 265 chilometri di strade di alta percorrenza classificate come pericolose.